Cercavo di soccorre, poi arrivava l'ambulanza e io ho cercato di tenerlo a terra per non muoverlo. Poi altri corpi ho sentito tre o quattro, però non so se sono andato a buon fine o meno. A parlare è uno degli uomini che ieri sera intorno alla mezzanotte ha prestato i primi soccorsi a Francesco Collini, 24 anni, raggiunto da quattro proiettili sparati a distanza ravvicinata da un suo coetaneo, Leonardo Vigiano. Collini si trovava nel circolo Arci di San Piero a Ponti, estrema periferia di Firenze, per trascorrere una serata tra amici, poi l'agguato e il terrore perché ha assistito alla scena. La vittima, colpita con due proiettili alla testa e altri due al torace, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Careggi. Le sue condizioni sono gravissime. In breve tempo i carabinieri hanno raggiunto l'aggressore, fuggito subito dopo la sparatoria, nella propria abitazione di Campi Bisenzio, dove vive con i genitori. Lì non ha opposto resistenza e adesso si trova nel carcere di Sollicciano con l'accusa di tentato omicidio. L'aggressore era noto anche ai diversi testimoni che erano presenti all'interno del locale. Era un ragazzo che quasi sicuramente aveva frequentato quella comitiva. Era conosciuto da alcuni di loro che all'arrivo dei militari hanno subito individuato e riferito le sue generalità. Rinvenuta anche l'arma utilizzata, una scacciacani modificata calibro 9, Vigiano, su quello che un tempo era suo amico, ha scaricato ben sei colpi d'arma da fuoco. Un ride fulminio, forse per una lite mai sedata, un rancore cresciuto negli anni e sfociato nella violenza. Francesco Collini, operaio, era molto conosciuto perché giocatore di calcio nel Mezzana di Prato, una squadra che milita nel campionato di prima categoria e aveva da poco concluso un nostalgia all'officina della CAP, l'azienda di trasporti pratese. Vigiano lavora nella ditta di famiglia a Campi Bisenzio. In paese li conoscevano tutti. Gli investigatori stanno scavando nel passato dei due per capire il movente dell'aggressione. Grazie. Grazie. Grazie.